Salve, mi è stato chiesto di spiegare come costruire questo tipo di sfumatura che si trova al fondo delle pagine di alcuni siti internet adesso io non è che sia molto addentro a queste cose qua comunque, in realtà si tratta di una sfumatura con una piccola linea di separazione credo che esistano diversi modi per poterlo fare ma probabilmente il modo che vi consente di avere un controllo maggiore è quello di costruirvi una sfumatura ad hoc allora, come creare una sfumatura ad hoc per ottenere questo effetto qui? CTRL- per diminuire le immagini io ho costruito la mia sfumatura, l'ho applicata su due livelli diversi e poi vi farò vedere come poter controllare la dimensione e la posizione delle due sfumature indipendentemente e nella misura in cui volete oscuriamo i due livelli e apriamo il comando sfumatura il comando sfumatura, io la mia sfumatura ce l'ho già qui creata voi partite da una sfumatura qualsiasi prendete una sfumatura bianco e nero ad esempio la posizione dei punti di controllo questo lo deciderete voi man mano che farete il lavoro quindi ne costruite una di sfumatura se non vi aggrada sposterete i vari punti quindi partiamo con costruire il primo punto cliccate in un punto qualsiasi in basso della riga vi apparirà questo simbolino quadrato con un triangolo nero sopra qui decidete per partire 50% cliccate su colore e andate qui in fondo e scegliete nero pieno quindi qui sarà 0, 0 e 0 date ok abbiamo stabilito che la mia sfumatura da questo punto a questo punto è perfettamente nera adesso quanto voglio che sfumi sia la quantità di colore che la lunghezza della sfumatura la deciderò io non so in realtà com'è la vostra pagina per cui deciderete voi poi la quantità esatta per fare una prova io stabilisco che voglio a 60 quindi clicco in un punto qualsiasi e porto a 60 questo valore riclicco sul mio colore e stabilisco un nuovo colore voglio che da nero pieno la mia sfumatura arrivi a 18 quindi scriverò qui dove c'è scritto RGB 18 18 e 18 do ok adesso io voglio che da questo punto nero pieno a questo punto 18, 18, 18 sia netto il punto di arrivo perché qui ci andrà la mia linea quindi riclicco in un punto qualsiasi qui e qui dovrete prestare abbastanza attenzione perché se no se sbagliate vi conviene ripartire da 0 cliccate riportate il valore a 60 quindi in realtà qui in questo punto a 60 avete due triangoli sovrapposti mi raccomando state attenti cliccate sul colore e a questo punto qui cambiamo il colore portiamo 36 36 36 e diamo ok quanto larga deve essere il punto di transizione? io voglio che sia largo l'1% quindi riclicco qui di nuovo e farò 61 clicco sul mio colore io ho ancora impostato 36 36 ed è quello che voglio e do ok adesso cliccate su questo qui in alto a destra e portate a 61 esatti e questo è il mio punto dove voglio che la mia opacità sia al 100% da questo punto in poi voglio che l'opacità sia a 0 quindi riclicco in un punto qualsiasi qui in alto porto di nuovo a 61 e la mia opacità qui in basso la porto a 0 a questo punto ho la linea esatta di interruzione cosa fate? su dove c'è scritto il nome personale scrivete il vostro nome io l'ho chiamato tasca voi lo chiamerete come vi pare piace se io metto tasca e clicco nuovo me lo salverà dov'è che me lo salva? me lo salva in fondo che io ce l'ho già fatto qui quindi dirò annulla in questo caso qua vi conviene per evitare problemi salvate il vostro file così come lo trovate in maniera tale che anche la sommatura appena creata sia pronta e non la perdiate cosa fate? vi portate sul vostro livello completamente nero di sfondo di partenza create un nuovo foglio questo nuovo foglio lo riempite completamente di nero quindi ricordatevi il tasto qui avete il bianco e il nero se non avete il bianco e il nero qui premete il tasto D vi riporta i colori di default e il tasto X vi permette di invertirli vogliamo mettere il nero? ricordatevi il tasto CTRL controlla lo sfondo e il tasto ALT controlla il primo piano quindi premendo ALT e BACKSPACE automaticamente il mio foglio mi si dipingerà di nero applico la mia sfumatura come faccio ad applicare la mia sfumatura? o faccio doppio clic nella parte vuota qui del mio livello attivo oppure vado su FX e sovrapposizione sfumatura vado qui nella mia barra seleziono la sfumatura che ho appena creato che è questa e do OK CTRL- per avere l'immagine a pieno schermo e qui decido decido la scala quindi posso avere la linea più grossa posso avere la linea molto più piccola sono io che decido e decido anche la posizione perché io adesso con lo strumento quando mi porto sul foglio mi diventa lo strumento MUOVI e posso spostare tenendo il tasto maiuscolo premuto sposterò la mia linea esattamente verticalmente rispetto al mio disegno do OK a questo punto ho il mio livello del fatto faccio CTRL-J lo duplico e ritorno sul livello inferiore perché sono due livelli identici uno sovrapposto all'altro io voglio spostare il livello in maniera che se ne vedano due sposterò quello inferiore mi porto sul mio strumento sposta e trascino sopra non si vede nulla perché? perché una cosa che dovete fare è quella su entrambi i livelli dovrete mettere il riempimento non l'opacità il riempimento esattamente a zero sia sull'uno che sull'altro a questo punto si vedono esattamente le mie due linee faccio lo zoom tasto Z mi avvicino e qui posso decidere quanto grosse le voglio perché ritorno sovrapposizione sfumatura vado qui su scala e decido quanto deve essere la spessore della mia linea faccio la stessa cosa sull'altra e mi sposto e decido quanto deve essere ok a questo punto avete creato le vostre due sfumature la dimensione delle sfumature e la grandezza dipendono unicamente da come l'avete composta qui ok in questo modo qua avete creato la sfumatura se desiderate che qui sia più bianco di quanto l'ho fatto io basterà cambiare i valori che ho impostato quando io ho impostato sul primo 60 ho impostato 18 se lo volete un po' più chiaro imposterete un valore superiore e così farete anche per la riga di mezzeria credo che questo sia tutto vi saluto grazie